vediamo 1, si sente 1? 2, si sente 2? 4, 6, 10, 11, allora, mancano poche lezioni cari ragazzi, perfetto, allora, si sente che se sentite dei trapani fuori dalla mia finestra non è colpa mia. Partiamo dal riprendere quello che abbiamo detto la volta scorsa, oggi è una lezione intensa perché sarebbe mia intenzione finire il programma per la prossima settimana, quindi forza e coraggio. La volta scorsa abbiamo visto che nella filosofia Unix riguardo alla gestione di tutto, dei dispositivi, all'esposizione dei processi, ai file veri e propri, è che tutto quanto è un file. Anche i dispositivi che file non sono, sono mappati all'interno del file system come se fossero file. Poi abbiamo anche visto che chiaramente dispositivi diversi sono file di tipo diverso. Se ne distinguono due macro categorie, uno sono i dispositivi cosiddetti a carattere, dei quali fanno parte per esempio le porte seriali, le tastiere, i terminali e quant'altro. Dall'altra parte ci sono i dispositivi a blocchi che sono quelli che permettono, che sono associabili ai dischi o ai dispositivi di memorizzazione di massa. Entrambi questi tipi di dispositivi possono essere aperti con la usuale system call open che al suo interno avrà delle porzioni di implementazione differente. If block device allora fai questo, if video device allora fai quell'altro. Queste due categorie di dispositivi offrono delle interfacce diverse, leggermente diverse però per quello che riguarda l'accesso. Per esempio sarà normale fare una SIC, uno spostamento all'interno di un dispositivo a blocchi, sarà normale chiedere a un dispositivo a blocchi quindi dammi 512 byte, sarà meno normale chiedere a una tastiera dammi 512 byte. In particolare ci siamo concentrati sui dischi e abbiamo stabilito un insieme di funzioni che il dispositivo a blocchi disco deve implementare. Chiaramente non è il disco che le implementa ma è un modulo del kernel, il driver del disco che si occuperà di fornire lato kernel, quindi lato sistema operativo già scritto, una serie di chiamate a funzioni che implementa un'interfaccia che poi a sua volta viene implementata da, viene, si traduce in un insieme di comandi per un dispositivo hardware. Normalmente abbiamo anche visto che i dischi sono dei dispositivi che funzionano in DMA, da una parte abbiamo il controller del disco che è un dispositivo elettronico che riceve all'ingresso una richiesta di letture o scritture di blocchi e che in uscita manda sostanzialmente un'interruzione quando ha finito il trasferimento. Nella richiesta uno ci mette anche la zona di memoria in cui il disco deve copiare la roba. Ok, ho ricevuto un messaggio in chat, appena ci arrivo, Giorgia, ti rispondo alla tua domanda. Adesso sto facendo il recato. Dicevo, quindi abbiamo visto, e questo permette di avere un trasferimento che è concorrente con l'esecuzione della CPU. Quando noi abbiamo un file system inserito sul disco, in realtà noi abbiamo una struttura dati che è persistente nella memoria del disco, che implementa un'interfaccia, però è un'interfaccia di tipo diverso, non è un'interfaccia driver, è un'interfaccia verso il file system. Quindi possiamo immaginare come il nostro sistema operativo stratificato in cui abbiamo a basso livello, a livello più basso, abbiamo il driver del disco che esporterà verso il sistema operativo un'interfaccia coerente con tutti quanti i dischi e con tutti quanti i dispositivi a blocchi. Poi sopra, ad un livello superiore, abbiamo un altro modulo che si occuperà di interpretare le informazioni scritte sul disco in maniera coerente con la convenzione che abbiamo scelto per scriverci da di dentro. In particolare, un file system è un modo di scrivere delle meta informazioni, dei dati che riguarda le cartelle, ai file, oltre che al contenuto dei file stesso. Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di file system che tipicamente vengono, tipicamente sulle macchine moderne, vengono riconosciuti all'atto della mount. Quindi, quando uno inserisce un pendrive nel computer, succedono un sacco di cose. Quando inserisci un pendrive, come prima cosa parte una chiamata al tuo, cioè si sveglia il controller dell'USB che dice al kernel, lei è stato inserito a un nuovo modulo USB. Il kernel allora farà partire una procedura di identificazione che capirà di che tipo di dispositivo USB abbiamo inserito, se è un mouse piuttosto che un pendrive. Nel momento in cui, e questo viene fatto ricevendo una stringe, chiedendo che dispositivo sei in maniera uniforme, cioè seguendo un certo protocollo dell'USB. Il dispositivo risponde con il suo identificativo, l'identificativo della sua classe. A quel punto il kernel può, se ce l'ha, caricare un device driver che esporta un'interfaccia di più alto livello per accedere a quel dispositivo e non attraverso dei comandi USB di basso livello. È possibile anche interagire con l'USB con comandi di basso livello. Però esporta in quel caso, dire ok, esiste un driver di dispositivo che si mappa su un dispositivo a blocchi, nel caso in cui sia un pendrive, e ti offre il dispositivo a blocchi. Quando inserisci un Arduino, il kernel riconosce che si tratta di un dispositivo FTDI, ovvero un convertitore USB seriale, e ti produce un'interfaccia USB seriale creando un dispositivo apposito. Nel caso del disco, siamo fermi alla creazione, all'istaziazione del giusto device driver. A quel punto abbiamo la possibilità di leggere e scrivere sul disco come se fosse un gigantesco failone, ok? Un gigantesco array persistente. Ma non è tutto, perché a questo punto entriamo nel merito delle informazioni che sono state memorizzate sul disco. E bisogna capire di che tipo, come sono fatte, quale protocollo è stato scelto per scriverci le informazioni dentro. È diverso se io monto un disco WFAT piuttosto che se monto un disco EXT2, perché non sono compatibili i due formati, sono due formati diversi, due modi diversi di scrivere le informazioni. Questa operazione di istanziazione del file system è questo modulo che gestisce il file system, ovvero è un modulo che da una parte implementa delle interfacce di apri file, qd file e quant'altro e dall'altra parte traduce queste chiamate in delle operazioni per il device driver. A questa volta attraverso la sua interfaccia unificata. A questo punto il device driver attraverso la sua interfaccia unificata si occuperà di tradurle in dei comandi per il controller del disco o per la USB, nel caso stiamo parlando di un pendrive. Ok? Questa operazione avviene naturalmente nel momento in cui noi facciamo una mount. Adesso, per esempio, forse c'ho un pendrive qua, fatalità, ho anche un pendrive perché ne sono provvisto, vediamo un attimo cosa succede quando uso un pendrive. Adesso faccio dmessage, chiedo dmessage, vedo il log del kernel, qua mi dice un sacco di cose, vabbè, ha questo OBS che tenta di fare cose strane, però a parmore gli impedisce di fare le cose, dmessage, ancora, eh, persiste questo. Vabbè, mi tengo OBS, vediamo se... Niente. Five callbacks suppressed. Abbatto a parmore. Questa è la CPU che si sta scaldando. Oh, finalmente ha riconosciuto il mio controller del disco. Dice, oh, sono successe cose. Cosa è successo? Ho trovato un nuovo high speed device. Fico, ho trovato un nuovo high speed device. Questo è il controller del disco che si sveglia. Poi lo riconosce come USB storage e allora crea una new interface driver, una nuova interfaccia, un nuovo driver, un nuovo driver dell'interfaccia per il tipo USB storage. Presumibilmente tutti quanti i USB storage saranno... avranno un'interfaccia unificata. A questo punto l'ha riconosciuto e poi non mi ha detto molto altro. Perché? Forse perché non l'ho montato. A questo punto provo a montarlo. Dice un sacco di cose eccetera eccetera. Vediamo se lo trovo questo disco. Lo apro. L'ho aperto. Vediamo che cosa mi ha detto. Sempre cose. No, non mi ha detto niente. Però l'ha montato. Lo vedo nei mount. SDB1. Eccolo qua. Questo qui è il mio pendrive. Durante l'operazione di mount... il kernel non mi ha logato questa informazione. Non è importante. Questa cosa effettivamente è successa. Ha trovato il mio pendrive e mi dice che è di tipo VFAT. Quindi quest'operazione di mount è stata eseguita. Quando io leggo e scrivo sul disco, lui chiamerà... ci sarà il driver VFAT, il driver del file system VFAT che tradurrà i suoi messaggi, tradurrà le sue operazioni per l'interfaccia unificata di tipo USB storage o storage in generale. Ok? Questo è quello che è successo quando ho inserito un pendrive. Pensate, c'è la prossima volta che inserite un pendrive. Ora lo stacco. Bene. Andiamo avanti. C'è la vostri messi. VFAT quindi è una classe astratta che si implementa determinate cose e fa rollback sulla... cioè fa rollback. Esegue delle operazioni sull'interfaccio del device driver. Abbiamo anche visto l'oltre scorsa quali sono le strutture dati che il kernel deve tenere presenti per gestire un pool di file aperti. In particolare conterrà per ogni singolo file aperto, anche se in multiple istanze, una struttura dati di tipo OpenFileInfo che è unica, che funziona un po' come se fosse una struttura dati con un reference counter e per ogni processo terrà una struttura dati che noi chiameremo OpenFileReference. OpenFileInfo. OpenFileInfo tiene traccia di quanti file reference sono aperti. Nel momento in cui tutti i reference di un file info sono chiusi, quindi tutti i processi che usano un file cessano di esistere oppure chiudono quel file, l'OpenFileInfo globale viene distrutta. Queste sono le strutture che esistono in RAM. Di contrasto le strutture che esistono sul disco sono da immaginarsi come se fosse una serializzazione, ovvero una versione persistente di strutture dati che potremmo scrivere in memoria. In particolare sul disco noi riconosciamo le seguenti entità che valgono più o meno per tutti i file system. Una particolare struttura dati che viene chiamata file control block, che è il primo blocco del file. Riconosciamo una struttura dati, un particolare tipo di file che chiameremo directory, che possiamo immaginare come se fosse un record di entry ai file, in cui ogni entry è un puntatore ad un file presente nella directory e possiamo immaginare un file come se fosse una sequenza di blocchi su cui sono memorizzate le informazioni di quel file sul disco. Perché parliamo di blocchi? Perché i dispositivi di storage tipicamente leggono e scrivono ad una certa granularità a una granularità di blocco. Poi abbiamo visto l'olta scorsa quali sono le cose che dobbiamo fare nell'implementare un file system e quindi nel decidere come memorizzare i dati sul disco la prima è come organizziamo i file, come scriviamo i file sul disco, con quale politica, come scriviamo i file su una directory, quindi come organizziamo una directory e come allochiamo lo spazio sul disco. Queste sono delle domande a cui dobbiamo rispondere nel momento in cui implementiamo un file system e possiamo valutare le nostre scelte. Benchmarcandole non è una parola giusta. possiamo stabilire la qualità delle nostre scelte valutandole in base a dei parametri come la lettura e scrittura continua oppure la lettura e scrittura randomica scattered. Abbiamo già visto l'olta scorsa che cosa sono. Dobbiamo tenere presente anche le caratteristiche del dispositivo fisico che abbiamo sotto. Per esempio, leggere e scrivere in maniera randomica su un flash drive potrebbe essere molto più conveniente che farlo su un disco fisico che deve muovere la testina. Poi abbiamo parlato di... quindi la prima cosa, la prima domanda a cui tentiamo di rispondere è come organizziamo un file. Allora, il primo modo di allogarlo è la contiguous allocation. Adesso rispondo anche a Giorgia che mi ha postato la domanda. il contiguous allocation è la moda, nella maniera più semplice. Semplicemente dico che un file ha un inizio, un file è caratterizzato nel disco semplicemente dal suo inizio, dalla sua locazione d'inizio. Tutte le informazioni di quel file occuperanno una sequenza consecutiva, uno dietro l'altro, una sequenza consecutiva di blocchi. La contiguous allocation è carina perché, in particolare nel caso in cui io debba accedere ad un file in maniera sequenziale, beh, immaginate che la testina fa pochissimo movimento, la testina del vostro disco, perché il file è... Praticamente i blocchi sono uno dietro l'altro, ok? Quindi, buono per questo. È ottimo per... cioè è ragionevole per quello che riguarda la lettura sequenziale, perché? Perché nel caso in cui io debba scegliere, debba andare a trovare la lettura randomica, perché nel caso in cui io debba determinare, leggere un blocco per esempio a metà del file, io non ho bisogno di fare dei calcoli oppure di inseguire con la testina delle strutture dati come se fosse una lista. Io so quanto è grosso, so quanto è grosso un blocco e semplicemente sposto la testina nel blocco a metà. Quindi, è vero che la testina si deve spostare, però questa operazione la faccio una volta sola. Mentre se il file, per esempio, e rispondo a Giorgio, se il file fosse organizzato come una lista linkata, per capire dove sta il blocco a metà del file, fondamentalmente io dovrei spostare la testina su ciascuno dei blocchi, perché devo inseguire la lista. Insomma, tutto farebbe pensare che la Contiguous Allocation sia la soluzione a tutti i mali, ma così non è, perché la Contiguous Allocation soffre nel caso in cui debba ridimensionare dei file, perché nel caso in cui devo ridimensionare dei file e ce li ho tutti uno attaccato all'altro, sostanzialmente quello che devo fare è prendere un file e copiarlo magari alla fine del disco. Oppure soffre dei famosi problemi di frammentazione esterna. Come possiamo fare a gestire queste cose nel caso di un file system ad allocazione contigua? Beh, eseguendo quella che viene chiamata una compaction. Quindi, ogni volta che apriamo un file, gli lasciamo un po' di spazio dietro, in maniera tale da poter sopportare determinate operazioni di aggiunta in coda al file. E nel caso in cui, quando scriviamo un blocco, andiamo a finire sul file dopo, beh, dobbiamo prendere tutta quell'informazione e copiarla da un'altra parte. Oppure addirittura far partire una procedura di compattazione che sposta tutti i file, diciamo, lasciando magari una quantità di buchi alla fine di ciascun file limitato. La seconda cosa che abbiamo visto è l'opposto della contigua, che è l'allocazione a lista linkata. Praticamente, all'interno di ogni blocco del file, tu riservi un header, una piccola porzione di dati, dove scrivi l'indice del blocco successivo. In questo modo realizzi una struttura a lista linkata. E adesso, rispondendo a Giorgia, che mi dice perché usare la linkeded invece di contiguos? Poiché nel linkeded ci si deve assicurare che i blocchi sequenziali siano contigui. No, nel linkeded, diciamo, il modo in cui tu scrivi questa lista lo puoi scegliere tu, puoi spargere questi blocchi come ti pare quando usi la linkeded allocation. La contiguos richiede che il file stia tutto un blocco dietro l'altro, mentre la linkeded allocation dice puoi prendere i blocchi e il primo blocco libero me lo dai e io ci metto un puntatore e continuo a scrivere da quel punto. La linkeded allocation è molto ragionevole nel caso in cui noi vogliamo fare letture, è abbastanza ragionevole nel caso in cui noi vogliamo fare letture sequenziali, posto che il nostro algoritmo di allocazione che ci dà i blocchi ci dia blocchi che sono più o meno vicini. Però questa cosa non è garantita. è buona nel caso in cui noi abbiamo dei file che cambiano spesso di dimensioni, perché nel caso della contiguos noi dovremmo spostare i blocchi in alto e in basso, insomma, sarebbe una cosa abbastanza dolorosa, ma la cosa più brutta, c'è una cosa per cui la linkeded allocation va particolarmente male, che è nel caso in cui noi facciamo un accesso randomico al file. Perché se facciamo un accesso randomico al file, poiché non abbiamo modo di sapere qual è il blocco, per esempio, che si trova a metà del file direttamente, la cosa ci richiede di scorrere tutta la lista e quindi tecnicamente dobbiamo leggerci tutto il file fino a metà. Ed è per questo che la linkeded allocation soffre nel caso in cui vogliamo fare degli accessi scattered e nettamente inferiore alla contiguos allocation. Poi ci sono delle strategie un pochino più moderne, che sono la prima è la file allocation table, la FAT, quella che avete visto anche quando ho inserito il pendrive, che descrive la struttura sequenziale dei blocchi che appartengono a un file in un disco, riservando in testa al disco una porzione di memoria che la possiamo vedere come se fosse un array list, in cui nella posizione i c'è l'indice del blocco successivo al blocco i. Quindi, in questo caso, assumendo che un file incominci al blocco 217, lui continuerà al 618, cioè vado nella FAT, leggo in locazione 217 618, vado nella FAT in locazione 618 e leggo 339, quindi questo è il blocco successivo, a 339 leggo niente, quindi il mio file sostanzialmente sarà grosso 3 blocchi, 2 e 17, 6 e 18 e 339. Quindi, quello che faccio è sostanzialmente una allocazione scattere, cioè una allocazione a lista, quindi la FAT è equivalente a questa lista qui, da un punto di vista di distribuzione dei blocchi sul disco, però mi dà il vantaggio di tenere in una sola parte del disco, perché questa tabella qui è memorizzata in testa al disco, tutti i successori. Quindi, se io devo trovare qual è un file, qual è il blocco a metà del disco, è sufficiente che guardi sulla FAT, non devo guardare sul... non devo guardare... non devo scandirmi questa lista, perché io ho questo array già memorizzato in testa al mio disco. Nella direzione? Sì, più o meno sì, Giorgia. Tu dici, nella directory root ci sono tanti riferimenti ad array, uno per ogni file della root? Praticamente sì, sì. E a sua volta, eccetera eccetera. Una directory sostanzialmente la puoi vedere come se fosse un file, Giorgia. Altro non è che è un file di record, solamente che la root sarà un file speciale, è un file che è in una certa posizione, perché deve contenere le informazioni per tutto il resto. Infatti, la directory principale del disco ha un'allocazione ben specifica che magari è leggibile direttamente dalla FAT. Poi, se la directory principale del disco ha una dimensione molto grande, bene, spannerà su più blocchi, come se fosse un file. Ok. Quindi, la FAT sembra una cosa abbastanza ragionevole, perché? Perché tutti i blocchi entrano fondamentalmente... cioè, la FAT è relativamente piccola rispetto al disco. Se considerate che un blocco del disco sono 4K, in una FAT ce la caviamo con 64 bit a blocco. Ok? Quindi con 8 byte a blocco, sostanzialmente riusciamo a tenerla con le macchine di oggi quasi tutte in RAM. Un'altra cosa carina della FAT è che, implicitamente, questa tabella codifica la struttura dei blocchi del mio disco. Perché in questa tabella, se io ho dei blocchi che non appartengono a nessun file, magari ci scriverò meno uno. E quindi, dentro a questa tabella, io so automaticamente, quando devo cercare un blocco libero, guarderò dentro questa tabella un blocco che dentro ci ha scritto magari meno uno. Ok? Comunque, diciamo... E questo è il modo DOS, il modo tradizionale di memorizzare i file sul DOS o sui suoi derivati. Poi abbiamo NTFS che è un altro paio di mani che però assomiglia molto a un file system indicizzato. Ora, su dischi, questa cosa qui, che la FAT rientra sempre in RAM, è ragionevole oggi, ma una volta non lo era, perché magari la RAM non era poi così tanta. E quindi si sono dovuti inventare qualcos'altro per gestire, per tenere in memoria la struttura di un file, senza però perdere in prestazioni nel caso di accesso randomico. E a voi, cos'è che vi viene in mente quando vi dico accesso randomico? Accesso randomico è uguale a una ricerca. Qual è la struttura principe, la struttura regina delle ricerche? È tipicamente l'albero. Quindi l'idea di una allocazione... Quindi sono nate le allocazioni indicizzate. Qual è l'idea di un'allocazione indicizzata? Beh, fondamentalmente io memorizzo il file su più livelli. Ad un livello alto io avrò dei macro blocchi, Ciascuno di questi macro blocchi avrò dei puntatori agli elementi di livello inferiore. Ciascuno di questi puntatori di livello inferiore a sua volta potrà puntare ad elementi di livello ancora inferiore, ovvero potrà puntare a dei blocchi fisici che contengono il file. Quindi in una allocazione indicizzata, gli inode, si distinguono i blocchi del disco in blocchi che sono di tipo dati oppure in blocchi di tipo indice che sono dei metadati, quindi dei dati sui dati, che memorizzano la struttura dei file. Per esempio, immaginiamo di avere un file che spanna su questi blocchi qua, su blocco 9, 16, 1, 10 e 25. È molto ragionevole avere all'interno del file system un blocco che è un inode, che è un nodo di tipo indice, al cui interno conterrà un array dei blocchi effettivamente usati da quel file. In questo caso, in questo inode, ci scriverò l'informazione che questa roba qua è di tipo inode e memorizzerò in prima posizione il blocco 9, che sta qua. In seconda posizione il blocco 16, che sta qua. In terza posizione il blocco 1, che sta qua. E via discorrendo. Quindi, quando vado ad aprire questo file, apro l'inode e poi, se mi leggo la prima parte, vado a finire nel blocco 9, quindi i primi 512 byte file. Quando mi leggo il 513esimo, vado a finire a leggere il blocco 16, e via discorrendo. In questo modo ho separato la struttura logica del disco dai file memorizzati proprio attraverso l'invenzione, tra virgolette, del concetto di inode. Qual è il problema che vi viene in mente quando vi descrivo questa struttura? Io ho tanti modi di gestire gli inode. Assumiamo che io, probabilmente, gli inode li posso vedere come se avessi distribuito la FAT sul disco. Potrei organizzare questi blocchi di inode in una lista sequenziale. In questo modo, se a un certo punto ho, per esempio, più di 8 blocchi, io qui potrei allocare, come successore di questo inode, un altro inode, che memorizza altri 8 blocchi, e via discorrendo. Beh, di fatto sto solamente... nel caso di accesso randomico, quello che dovrò fare sarà scandire prima la lista degli inode, prima la sequenza degli inode, e poi a partire per trovare un certo blocco, e poi andare a trovare l'indice del blocco e leggermi il blocco corrispondente. Questo modo di funzionamento chiaramente non scala. Nel caso in cui io abbia più un file molto grande, posso avere, che ne so, molti blocchi di inode. E se io ogni volta che devo fare una SIC, quindi una lettura randomica all'interno del file, vuol dire che mi devo prima scandire tutta la lista in cui ho memorizzato gli inode, per trovare la posizione del blocco incriminato, ma questa cosa non è tanto efficiente. Allora che cosa è che posso fare? Faccio l'alberello, quindi posso organizzare gli inode in un albero. Un albero in cui i miei inode hanno codificata al loro interno l'informazione del livello a cui si trova quell'inode. Quindi l'inode di tipo 0 magari conterà il file control block ed una certa porzione dei dati del file. Poi, se il file è più grosso, questo inode punterà ad un blocco di livello superiore in cui ciascuno degli elementi di questo blocco di inode punterà ad un altro blocco dati oppure un blocco inode, in questo modo. Vedete, ho realizzato un albero impilando inode. Quindi quando il file cresce, anziché crescere linearmente, posso crescere in maniera logaritmica. Ok? Normalmente quello che si fa nei file system inode è una cosa ibrida, nel senso che poiché su UNIX e su tanti sistemi molti file sono piccoli, cioè moltissimi dei file che voi avete nel vostro file system sono meno di 1K o meno di 4K, sono piccoli. Ok? Ah, io che faccio? Creo tutta questa struttura per un file? No! Allora quello che di solito si fa è, si usa una cosa un po' ibrida. Quindi dici, ok, un file è costituito da un primo blocco, un file control block, poi una parte del file di questo primo blocco, non tutto, una parte, la deputerò a contenere i primi dati di quel file, che ne so, i primi 256 byte. Se mi bastano sono contento, se questi 256 byte non mi bastano, allora scrivo, metto un flag e ci scrivo dentro la lista di inode e allora avrò gli inode del livello successivo. In questo modo riesco a mitigare, diciamo, lo sperpero di blocchi che potrei fare per memorizzare meta informazioni di un file. Ok? E con questo abbiamo visto tre modi di allocare i file, quindi di tenere la contiguità di delle informazioni che sono memorizzate sul disco. Il primo che abbiamo visto è allocazione contigua, lista linkata, abbiamo visto la FAT, che è quello usato su Windows e sui pendrive, abbiamo visto l'allocazione indicizzata e abbiamo visto che l'allocazione indicizzata, quella con gli inode, in realtà può essere implementata su più livelli. Ok. Ora, sappiamo come gestire un file sul disco, che è una struttura sequenziale. Ah, una cosa che non ho detto riguardo all'allocazione indicizzata è qual è il costo di un accesso scattered nel caso di un file system inode. Non mi devo più leggere tutto il file, ma mi devo scandire l'albero praticamente per livelli, perché se voglio andare ad una certa posizione mi sarà sufficiente andarci dritto dalla root al blocco incriminato. Quindi passo da un tempo lineare per un accesso indicizzato a un tempo logaritmo. Quindi abbiamo visto come implementare i file, adesso dobbiamo vedere come implementare le directory. Allora, cosa più semplice, devo implementare una directory, la posso implementare con una lista lineare. Abbiamo già capito che la directory altro non è che un particolare tipo di file. È un file che ci avrà un file, il cui primo blocco ci avrà un flag scritto sono una directory. E essendo una directory non è un file qualsiasi, non ci puoi mettere quello che ti pare, ma lo devi organizzare in dei blocchi, ci metti dei record, delle struct. Ciascuna di queste struct è un entry che punta a un file contenuto nella directory. Possiamo implementare una directory come se fosse una lista lineare di nomi, ragionevolissimo. Nel caso in cui abbiamo pochi file in una directory, nessuno ci vieta, non vedo controindicazioni, però quando i file incominciano ad essere migliaia, o centinaia di migliaia, usare una lista lineare potrebbe essere una cosa dolorosa nel caso in cui, per esempio, volessimo aprire un file all'interno di quella directory, perché ce la dovremmo leggere tutta, nel caso fosse una lista lineare. Allora, che cosa possiamo fare? Beh, se c'è una struttura, possiamo utilizzare questa struttura. Per esempio, potremmo tenere questa lista ordinata, implementando, su disco, una struttura che rimane ordinata per definizione. Immagino che algoritmi e strutture dati, come avete visto, gli rbtree, potete usare un rbtree serializzato sul disco che contiene le entry della directory, magari ordinate per nome. Ok? Quello che potete fare in RAM lo potete fare anche sul disco, sostanzialmente. L'abbiamo anche visto con la mmap, tra l'altro. Ok? In questo caso, però, dobbiamo stare attenti a scegliere delle strutture dati che non richiedano tanti aggiornamenti, tante manipolazioni. Questo è un modo. Un altro modo di gestire la directory è quello di, come vi ho detto, potete implementare degli rbtree, potete implementare delle hash tables, per esempio. Un hash table in cui organizzate le cose in dei bucket, non so se avete presente cosa sono le hash tables, sono dei container che memorizzano i dati in dei secchi. All'interno, data una chiave, per esempio il nome del file, io determino un intero che è l'hash. Questo hash sarà l'indice di una certa struttura di un certo array in cui andrò a posizionare, a mettere quella entry. Se quella entry lì è già occupata, allora posso organizzare ciascuna bucket, ciascuna entry della mia hash table in una lista linkata. Però se ho poche collisioni, fondamentalmente ho un accesso più o meno od1. Questo è un altro modo di gestire la directory. Se volete sapere il mio preferito, sarebbe quello di usare un rbtree. Un po' più costoso in media. A meno che poi tutto quanto va dimensionato all'uso che si fa di quel file system. Se dobbiamo leggere e scrivere file di testo, allora conviene un certo tipo di struttura dati. Se abbiamo tanti file scritti a cui accediamo sequenzialmente, magari una linear list va bene. Se la nostra ricerca di chiave è attraverso il nome, allora è una cosa. Se magari attraverso altri dati del file, per esempio l'utente o quant'altro, allora anche questa è diversa. Posso voler usare un'altra struttura dati. Dunque la sostanza è che queste tre sono o linear list o hash table in modo di implementare la lista. Un'altra cosa che mi rimane, forse l'ultima dell'epopea dai dischi. Abbiamo scoperto come scrivere i file, abbiamo scoperto come implementare i directory. L'ultima cosa che ci rimane è manipolare lo spazio libero. Bene, quando chiediamo al disco o quando creiamo un file, dobbiamo ottenere dal disco o dal disco. Dobbiamo guardare nelle nostre strutture dati e dargli una regione di memoria libera. Ora, questo lavoro noi lo possiamo fare tranquillamente utilizzando una linked list e utilizzando uno slab allocator. Per esempio potremmo tenere in testa al disco, in maniera simile a quello che fa la FAT, una lista di blocchi liberi. Anzi, non sono sicuro, ma penso anche se io dovesse implementare la FAT, userei un particolare file che chiamo il file 0, che è il file che è costituito da tutti i blocchi liberi. In questo modo io ho una sequenza di blocchi liberi a disposizione. Però usare uno slab allocator direttamente magari non è tanto buono per quello che riguarda il disco, nel senso che uno slab allocator alla lunga mi dà tanto, immaginate prendi un blocco, dammi un blocco, prendi un blocco, dammi un blocco, mi può dare luogo ad una distribuzione di nuovi blocchi che è molto sparsa sul vostro disco. E questa cosa qui sappiamo che non va bene per niente, non va bene per i file allocati, non va bene fondamentalmente nel caso generale perché leggere un file comporterebbe che la testina si sposta un sacco di volte. Anche se noi utilizziamo un'allocazione indicizzata o un'allocazione di tipo FAT. Perché? Perché anche se usiamo un'allocazione di tipo FAT, in questo caso la testina si deve spostare di tanti posti tra un blocco e l'altro. Mentre nel caso dell'allocazione di tipo FAT si sposterebbe di meno. Ripeto, oggi come oggi queste considerazioni vanno un pochino svanendo perché si tende ad usare dispositivi di memorizzazione tipo SSD che permettono di fare un cambiamento di blocco presto che istantaneo. Che è molto più veloce perché non ci sono parti meccaniche in modo. Comunque, io queste cose le devo raccontare e le racconto. Quindi, lo slab è un modo. Quello che di solito si fa è che si tiene all'interno del disco una bitmap in cui ogni bit di questa bitmap corrisponde a un blocco del disco. Non ogni byte, ogni bit. In questo modo è molto compatta. Perché si fa questo? Considerate che questa bitmap può stare interamente in RAM e può essere scandita alla velocità della luce. Cioè, molto velocemente. Perché con una lettura io riesco a leggere, per esempio, 128 bit. Magari i vostri processori, se hanno SS, lo fanno tranquillamente. Riescono a leggere un sacco di bit alla volta. E quindi riesci a trovare molto rapidamente qual è un blocco libero. Cioè, dei bit che sono o a 1 o a 0 se un blocco è libero occupato. Però, tenere la bitmap mi permette di visualizzare non solamente quali sono i blocchi liberi, ma di visualizzarne anche la contiguità. E in questo modo, magari potrei scegliere, nel momento in cui prendo un blocco da disco, di offrire, per esempio, un blocco libero abbastanza grande. Non un blocco puzzo che subito dopo ce n'è un altro. Perché se poi quel file cresce, mi trovo a dover fare un altro jump in un'altra locazione. Ok? Quindi, la bitmap mi dà un'informazione strutturale. E con questo ho finito con i dischi. Un minuto di pausa e poi partiamo con i device driver. Se avete domande, scrivetele sulla chat. Con i device driver, con le IPC. E poi i due e tre. Non ci sono domande. Non vedendo domande, passo all'argomento successivo, che è inter-process communication. Allora, avete mai visto Message Queue, Shared Memory, nel corso di sistemi di calcolo? Intanto vi rispondete, diciamo, cosa sono le IPC? Le IPC stanno per Inter-Process Communication. Allora, i progettizi di Unix, molto prima della rete, si erano resi conto che i processi dovevano comunicare tra di loro. Per far comunicare dei processi, i primi sistemi mettevano a disposizione dei meccanismi che si chiamano Inter-Process Communication. Tecnicamente, anche sul sistema che state facendo girare adesso, è pieno di IPC. Una macchina che funziona interamente basata su IPC, per esempio, è il vostro web server. E ve lo faccio vedere. Questo qui, allora, c'è X... Il web server, ho fatto IPCs, che mi fa vedere quali sono le IPC attualmente in uso. C'è il server X, uno dei modi standard con cui il server X mette a disposizione i suoi servizi, ai programmi che ci girano, che per questo si chiamano client, e attraverso IPC o anche attraverso socket. Perché una cosa che dovete sapere è che molto tempo prima di VNC o quant'altro, si potrebbero far girare i programmi grafici su una macchina remota e questo si fa con Xserver. Voi, quando lanciate il vostro ambiente, avete un programma che si chiama Xserver, che è quello che offre ai client la possibilità di aprire finestre, di scrivere una cosa sul video, di leggere una cosa da video. Se risiedete sulla stessa macchina, i vostri client e l'Xserver comunicano in IPC. Se invece state su macchine remote, comunica in IPC. Ora, no, questo l'ho detto, era questo quello che mi interessava, 3-5. Ora, come possono comunicare i due processi? Fondamentalmente i metodi sono due, o si passano dei messaggini oppure condiviniono della memoria. E fino a qua non ci piove. Quindi adesso vediamo due schemi, vediamo di analizzare schemi di message passing e schemi, o schema di shared memory. Allora, io ho due processi e voglio farli comunicare. Processi, non thread, e voglio farli comunicare. Faccio finta che i socket non esistono, sono prima dei socket, o magari neanche voglio. I socket richiedono tutta una serie di lavoro in più rispetto ad una comunicazione diretta, perché magari i socket sono sulla stessa macchina. Se voglio far comunicare due processi, ripeto, o si mandano dei messaggini oppure condividono una dashboard, un'area di memoria. Il modo più semplice, da un punto di vista implementativo, di solito è quello di message passing. Perché? Perché è più safe. Io quando mando un messaggio, mando un messaggio e non mi devo preoccupare che la trasmissione, di verificare che l'altro l'abbia letto o quant'altro. Io posso tranquillamente mandare il messaggio. E basta. So che questa operazione di invio è integra. Non devo fare dei poll. Se poi gli voglio mandare un altro messaggio, beh, io mando un altro messaggio. Non ho problemi di arbitraggio, da questo punto di vista. Il problema di quando mando un messaggio è che questa operazione richiede una copia. Tecnicamente passare un messaggio significa che io prendo della memoria di un processo, la copio, per esempio, dentro della memoria del kernel, che per recapitare questo messaggio lo copierà, farà una terza operazione di copia e copierà questo messaggio al destinatario. Ok? Quindi, messer passing è bello, è fico, però è meno efficiente di magari condividere della memoria. Ok? Immaginiamo, per esempio, che io debba abbia due processi, uno che legge dalla telecamera e uno che legge la telecamera e offre dei messaggi di tipo immagine, e un processo che legge questi messaggi di tipo immagine e li visualizza sullo schermo. Se si devono mandare questi messaggi, io faccio un sacco di lavoro, perché da quello che legge la telecamera io devo prendere questi dati, copiarli, poi farci un messaggio e mandarli. Cosa significa mandarli? Devo prendere questa struttura dati, la devo copiare in una regione del kernel, questo lo fa la syscall, che poi nel momento in cui quell'altro va a vedere la sua mailbox, per esempio, si dovrà prendere e il kernel dovrà copiare dalla sua memoria alla memoria del processo. Quindi faccio due copie per mandare un messaggio, per esempio. Ne potrei fare anche una sola, però comunque c'è un'operazione di copia. Ok? Di contro ciò che nel momento in cui mando il messaggio non me ne frega niente di quello che succede poi. Quindi i due processi possono essere efficientemente disaccoppiati. Quali sono però delle opzioni? Ci sono diversi schemi implementativi e quali schemi implementativi troviamo nel messaggio? Beh, prima di tutto, quando mandiamo un messaggio, noi possiamo mandare un messaggio direttamente ad un processo. Quindi un processo ha una sua... un suo apparato di ricezione di messaggi e è solo suo. Ok? Nessun altro processo può leggerci dentro. Quindi se questo processo muore, chiaramente muoiono anche tutti i messaggi che sono stati inviati a lui. Vengono buttati. L'alternativa è quella in cui crea un terzo attore, crea l'attore mailbox, cassetta della posta, nella quale chiunque può scrivere, per esempio, oppure un certo insieme di persone autorizzate possono scrivere e un certo insieme di persone, di processi autorizzati possono scrivere e un certo insieme di processi autorizzati possono leggere. Quindi o c'ho l'invio e ricezione diretta, oppure c'ho l'invio diretto su PID, sul processo, oppure c'ho l'invio su Mailbox. Ugualmente posso avere una ricezione diretta oppure una ricezione su Mailbox. Quindi la Mailbox è un oggetto che deve esistere fuori per conto suo. E vi già anticipo che la Mailbox può essere creata ed esistere nel file system. Questa è la prima cosa che posso avere. Poi, per quello che riguarda l'invio e la ricezione, io posso avere anche diversi comportamenti. Posso avere una ricezione, cioè una comunicazione sincrona. Per esempio, io mando un messaggio e rimango bloccato fino a quando quell'altro che sta in ascolto, fino a quando qualcuno che sta in ascolto su quella Mailbox non si è letto il messaggio. Implementando in questo modo il famoso schema produttore-consumatore senza dover fare niente. Tu basta che fai, manda un messaggio e quell'altro se lo legge. Poi un'altra cosa che posso avere è la possibilità di avere delle Mailbox di dimensione limitata. Quindi scrivi messaggi fino a che la tua Mailbox non è piena, poi non ti permetto più di scrivere finché qualcuno non si è letto qualcosa, liberando così spazio nella Mailbox. Ok? Oppure nel processo. La stessa cosa può essere fatta su Mailbox o su processi. Ora, se io voglio implementare e utilizzare lo schema di message passing di Linux, quello di cui vi parlo in questa lezione è lo schema POSIX. In realtà esiste anche un altro schema, che è lo schema IPC, che è quello più tradizionale. Ok? Però sono due modi di fare la stessa cosa. Lo schema POSIX si mappa interamente sul file system. Per creare, quali sono le operazioni che posso implementare su una coda? Allora, la prima operazione è apri la coda. Come si apre la coda? La coda si apre più o meno come si apre un file, con una sorta di open, cioè una coda di messaggi, una Mailbox. Come si chiude una coda? Indominate un po', si chiude dicendo close. Come si cancella una coda? Perché avete già capito che una coda è una Mailbox. Cioè, una Mailbox. Una Mailbox è un oggetto che esiste a prescindere dai processi. Uno crea la Mailbox e quegli altri ci fanno il lavoro. Poi, per cancellarla, bisogna cancellarla esplicitamente. Un'altra operazione che si può fare sulla Mailbox, appunto, è cancellarla. Come si fa? Con un link. Vi ricorda qualcosa? Assomiglia molto ad un file. Come si fa a settare degli attributi? Per esempio, questa Mailbox è bloccante, è sincrona, è asincrona, eccetera, eccetera. Ci saranno delle system call che vi permetteranno di fare questa. Queste sono tutte operazioni relative alla gestione della coda. E un'altra operazione fondamentale, poi ci sono le operazioni relative all'invio e ricezione dei messaggi. E quali sono queste operazioni? Primo, metti un messaggio nella coda, e questa operazione può essere bloccante o meno a seconda di come l'ho configurata. Oppure l'operazione duale, leggi un messaggio dalla coda. Oppure mettiti in attesa che qualcuno scriva. Oppure ancora, notificami quando un messaggio è pronto nella mia coda. Ok? Con coda intendo Mailbox. Ok? Ora, come si implementano queste funzionalità? Indovinate un po', ci sono delle system call MQ, message queue close, message queue open, message queue get atr, che ragionevolmente ti restituirà una struct con gli attributi, message queue notify, che notifica il processo quando la coda diventa non vuota, message queue receive, send, set atr, che è l'attuale di get atr, e message queue unlink. Ok? E adesso vi faccio vedere un esempio, però ve lo apro con l'editor normale, perché così si vede meglio. Comunque per completezza sta sulle slide. Questo esempio illustra un programma che creando una coda, una message queue, attiva un server e un client che si mandano così. Ok? Ok? Ok. Immagino, vediate, No, mamma mia, è terrificante! Ho fatto una cosa terribile, io tutti questi fonti li elimino, c'è una cosa aggurinante. Allora, qui abbiamo due thread. Un thread che chiamerò il server, che è questo qua, e un thread che chiamerò il client. Il server configurerà una coda. Come fa a configurare una coda? C'è un message queue descriptor t, mq. Poi questi qua sono i byte da leggere, i byte da scrivere e quant'altro. C'è una struct che identifica gli attributi della coda. Allora, qui configuro gli attributi nella coda, se voi fate man.mqopen, man.mqattr, scoprite il significato di questi flag. Però, diciamo, sono tutte piccole opzioni. La cosa rilevante è qui, e io prendo message queue descriptor type, e l'intero. ottengo dalla mqopen un message queue descriptor. Cosa c'è scritto in queuname? C'è scritto test queue. Quindi io creerò un file che si chiama test queue. Ok? Un file finto nel mio file system. Credo che sia in POSIX o mq... mq... La so, eh? Cut to your file... Ah, devmq. Ok, qui c'è una directory nel vostro file system dev, l'ho messa lì, che contiene le code di messaggi. Adesso io quando creo questa coda di messaggi, in questo punto, in quella porzione del file system, voi troverete una cosa che si chiama test queue. Ok? Così la identifico in maniera univoca all'interno del file system. Dico che la mia message queue ha al massimo 100... 1024... Cioè il mio buff, il mio messaggio ha al massimo 1024 caratteri, pazienza. E poi la creo con degli attributi che sono molto molto simili a quelli di un file. Creala. E dalla coda leggi solamente. Read only. E in maniera non... Aprile in maniera non bloccante. Ok? Questa è la mia codina. E poi entro nel mio ciclo. Cosa faccio nel mio ciclo? MQ receive. Sarebbe l'equivalente dell'MQ read. Dalla message queue, che è il mio file descriptor, mettilo dentro un buffer fino a una certa dimensione, dimensione massima. E in NAL non mi ricordo cosa vuol dire. Se legge una certa quantità di dati, mi dice ho ricevuto un certo messaggio, altrimenti mi dice non ho ricevuto niente. E poi mi metto a dormire. Non so per quale motivo ho scelto questa quantità di secondi, però qualcuno... Forse l'ho copiato da qualche parte. Alla fine della fiera, quando ho letto, quando sto girando, in questo thread, io chiudo la coda e la unlinko. Quindi questo qui è il server, il mio thread che mi fa da server. Dice perché se stai a fare due processi, hai messo tutto in un unico programma, in un unico processo, perché mandava, ma tanto questa coda esiste a prescindere, quindi non mi turba la cosa. Giorno, il client, che farà delle operazioni duali, fa l'apertura della coda, non fa la creazione, notate, mqopen, ma senza il flag di create. Quindi se la coda non è stata creata, lui non fa niente. E mentre quello leggeva solo, dico che questo scrive solo. E poi, finché while run, scrive su una stringa message%d con un contatore che si incrementa, invia il messaggio e poi si mette a aspettare un po' di tempo. Ok? E poi lancio questi due thread fino a quando non premo ctrl-c, credo. Oppure... Sì? While run... Ah sì! Faccio partire questi due thread e poi mi metto in ascolto di un carattere con gachar, quindi fino a che non premo un carattere, quei due thread girano. E questa qui ha una chiamata bloccante. Quando premo un carattere dice run uguale a zero, questo mi abbatte i thread e poi li join. Ok? Bene, facciamo girare questo coso. Ok, questo è il client, il server dice non faccio niente, non c'è 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 niente. Perché sono due quanti diversi. Cioè questo qui aspetta questo tempo, mentre il server aspetta questo tempo, mentre il client aspetta questo tempo. No, 7.33 e 0.7.25. Quindi sono due tempi diversi. Ok? Pacifico. Quindi sappiamo come usare le code. Le code si aprono, ci si linka, se uno apre una coda, la apre in modalità lettura o in modalità scrittura, e posso avere anche più processi che sono attaccati alla stessa coda. In questo caso, quando leggi un messaggio, chiaramente lo consumi. Ok? E abbiamo scoperto le magie delle code. Ah, una cosa rilevante è, ma dove sta sta coda? Sta qua. Test coda. Ora, se io abbatto questo programma in maniera brutta, la coda ancora sta lì. Come faccio a ucciderla? Ora, non mi ricordo, credo che sia mqunlink. C'è un comando. Oh, mtestq. Così. Perché funziona? Perché io ho fatto un unlink. No? Ma la coda non esiste in nessun punto del mio file system. La coda è una cosa astratta. Bene. Raccontato questo riguardo all'IPC, continuiamo. E il prossimo elemento è la shared memory. Adesso, come faccio a controllare le code? Io posso anche fare cut su una coda. Io vedo i messaggi che ci stanno dentro. Ovviamente le code, quando le creo, le posso creare con determinati permessi, in maniera tale che non è che tutti quanti ci possono leggere o scrivere, insomma. Coda è privacy. Ora, abbiamo parlato delle message queue. Abbiamo visto le message queue POSIX. Adesso vediamo le memorie condivise. Ragionevolmente una memoria condivisa è un IPC, un blocco di memoria, che è molto simile alle message queue, che esiste a prescindere dai processi, e che offre delle funzionalità che sono simili a quelle, diciamo, più che altro dei processi, puoi aprirla, puoi chiuderla, dei file, non dei processi, dei file, la puoi aprire, la puoi chiudere, la puoi distruggere. Ci vuoi scrivere dentro, ma per scriverci dentro è sufficiente che tu te la mappi, te la memory mappi nella tua regione di memoria. Quindi per definire una shared memory, mi sarà sufficiente aprirla, dargli un nome, e quando la apro, posso mappare il file descriptor di quell'area di memoria nel mio spazio di memoria. Come faccio a sapere quanto è grossa una shared memory? Ricordiamoci che la shared memory è un file. Quindi quando apro la shared memory, per sapere quanto è grossa, potrei usare la F-Stats, F-Statistiche, che mi dice quanto è grossa la shared memory. Qui vediamo due programmi, se l'altro ho fatto due bei programmi, perché uno puzzava troppo, perché altrimenti è, uno scrittore e un lettore di shared memory. Questo qui è lo scrittore, che si occupa anche di crearla, lo vedo da qua, o create. Le chiamate a la shared memory sono Open, Close e Destroy. Ok? Per aprire la shared memory, si fa con shared memory open, che assomiglia molto alla open, però devi dirgli di aprire un oggetto di tipo shared memory, ecco perché c'è quel prefisso, shm, il tipo della risorsa, che sarà equivalente alla message queue, gli dai dei flag e gli dai anche dei permessi. Puoi anche aprire una shared memory, per esempio con permessi di esecuzione, nessuno te lo chiede, ci puoi anche caricare un processo e poi vedere quello che succede. potresti caricare un program file dentro a un'area di memoria e poi lanciare la exec magari su quell'area di memoria se c'è un modo di farlo. In quel modo realizzi una sorta di RAM disk, precarichi un programma in RAM. In maniera analoga alla open, se alla open dei file, se il file descriptor è minore di zero, le cose sono andate male. Poi devi ridimensionare la shared memory. Vi ricordate? Ftruncate. Ftruncate. Setta la dimensione di un file. Come si fa a settare la dimensione di una shared memory? Beh, sostanzialmente una shared memory è un file e quindi con Ftruncate, Ftruncate, tu stabilisci la dimensione dell'area di memoria. E poi, in questo caso lui ci vuole leggere e scrivere, per leggerci e scriverci, devi memory mappartela in corpo. E quindi chiamami una memory map. Su che cosa? Sul file descriptor della shared memory, che è FD. Ti sei mappato nel tuo spazio di memoria quella shared memory e poi scrivi in mondezza su questa shared memory, ripetutamente, perché fai delle sprintf sul buffer, dove il buffer è l'inizio di questa shared memory area. Alla fine della fiera, dopo che avrai stampato per cento volte delle cose sulla tua shared memory area, la unlinki, ti stacchi dall'oggetto shared memory. Ovviamente l'unlink, poi fai la exit, questo smappa, distrugge tutta la memory map del processo e quindi fa anche l'operazione di memory unmap da sola. Questo è il lettore. Lo scrittore dovrà fare più o meno le stesse cose, con la differenza che non la deve aprire in Create, ma la deve aprire solamente in Retrite. e mentre fa questo giro, mentre ci cicla sopra, se questo scrive, quell'altro dovrà legge. E infatti, questo è il lettore. Il lettore apre, argvd1 è il nome della memory map, della cosa di memoria, la apre, mentre questo qua imponeva, con f-truncate, imponeva la dimensione dell'area di memoria, io la creo e quindi io dico quanto è grossa, shmem size sarà il numero in byte dell'area di memoria, quest'altro apre questa shared memory e deve scoprire quanto è grossa, perché se io ci devo leggere, beh, se ce lo scrive, è chiaro che la devo ridimensionare, ma se ce lo devo leggere, solitamente sape quanto è grossa. Come faccio a sapere quanto è grossa? Indominate un po' chiamo la f-stat, che ti riempie questa roba qua, con dei dati, tra cui ci sarà anche la size di quel file, che in realtà è una shared memory area. E poi, te la mappi in corpo, e finché vivi, stampi quello che c'è dentro. Quindi lanciamo questo ottimo programma, anzi questa coppia di programmi, e vediamo che cosa succede. Ah, e come faccio a sapere quali sono le shared memory che sono attive? Vado a vedere dentro devshm. vabbè, prega niente. Ma qui ne ho aperto uno, qui ce n'ho uno, asci il conto il T, vai così, the touch termino, questo lo metto qua, questo lo metto qua, ok, ma che? Ho macato, qui lancio, lancio shm-prepare, writer, mia, ademora, no, no, e l'ho creato, e qui lancerò, e ovviamente io darò la stessa. Ah, notate che, questo qui legge a una velocità molto più alta di questo, perché l'ho messo a, a meno, a una frequenza più bassa, questo qua scrive, che questo qua legge, dice, ma perché legge? Mi fai vedere, Giorgio, dove legge? Sì, quello là che fa, while run, quindi finché non mi abbatti, ah sì, finché stampa su una stringa che tu chiami buffer, message per 100d, così, ci metto le cose, e poi fa una printf, ma questa l'ha messa a più, questo b, Eccolo qua, ecco qua. Come fa? Lui stampa printf il buffer, perché noi nel buffer con quell'altro ci abbiamo scritto. Siccome ci abbiamo messo uno 0 alla fine del buffer, lui sa che la fine della stringa si ferma e non legge oltre. Ci abbiamo messo lo 0 nella stringa, vediamo un po'. Anzi, ce lo mette da solo la sprintf. Quando scrivi su una stringa con sprintf, lui si occupa di mettere il trailing 0 alla fine della stringa. E abbiamo visto l'insh. Se avete domande, fatele ora o tacete per sempre. Adesso abbatto i miei shman cose. Questo ha finito la legge, sì. lsdev 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 shm Ah, perché non c'è più dentro la devshm mia area di memoria? Indominate un po'? Perché ho fatto l'unlink e credo che il mio programma, perché ho fatto l'unlink e credo che il mio programma l'abbia digerita, questi sono tutti i terminali, perché ho fatto l'unlink. Allora, considerazioni sulle shared memory, abbiamo visto la API IPC, ci avete un'altra directory che è System5, che è un altro tipo di interfaccia per aprire le code di messaggi che dichiara delle code di diverso tipo, che sono le famose code del System5. Come esercizio di questa parte vi do di implementare una message queue utilizzando una shared memory dei semafori, ok? È molto semplice come esercizio, semafori tra due processi, ok? Questo è l'esercizietto di questa volta, proposto per la prossima. Ok, quindi siamo ancora... Oggi sono un drago, c'è ancora un'ora e venti minuti, faccio cinque minuti di pausa, quindi pauso il video un attimo. Oppure, se avete domande fatele, intanto, io mi muto, faccio cinque minuti di pausa e poi parto sul resto della favola di oggi. Grazie. 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 telecamere che c'è qua. Quindi vediamo come si trattano queste cose. Quello che vi ho raccontato nella puntata precedente riguardava dei dispositivi a blocchi, quindi fino adesso abbiamo parlato di file o di directory. Poi abbiamo parlato di IPC e adesso vediamo a una classe diversa di dispositivi, quali sono per esempio il joystick, forse anche il mouse, però credo che ci sia un modo di leggere dal mouse. Adesso ci provo. DevInput mouse0. 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 Forse è il mouse1. No, non me lo fa fare. Vabbè, ci ho sperato. Miche magari. Oh, sì, sto leggendo dal mouse. Miche è il mouse. Muovo il mouse, leggo caratteri. Ok. Leggiamo dal joystick. Dice, ma ce l'hai il joystick? The message. No che non ce l'ho, però adesso ce l'ho. Ora, io non so che c'ha sto joystick, che c'ha le batterie scariche, ogni tanto si sente male. L'ho usato per sempre, però vabbè, si vede che è arrivata alla fine della sua vita utile. The message. Oh, mi ha inserito un Logitech Gamepad F710 e riferato. Va? Bene. Dove me l'hai messo? Ah, io potrei leggere direttamente da questo device. Leggiamo da questo device. Gatto. No. Devices. Ah, dev. Oh, oh, oh. Cut. Dev. Whatchier. Boost. Vabbè. Io so che lui me l'ha messo su dev input js 0, ma non so perché mi dice questa cosa qua, lo stanno PCI 0,0,0 push bus, ma bus solo USB, c'è input ok, se mai scriverete un driver fate in modo che loghi anche il posto dove monta il device un modo è andare a vedere bypass e se fate bypass ah, è quello qua, si, me l'ho messo qua PCI, 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 event joystick, eccolo qua cut lui adesso sto muovendo il joystick, solo che è un po' triste oh, un po' meglio, un po' meglio del solito del solito si comporta peggio vedete che devo usarlo questo dispositivo vabbè ah, io adesso cosa ho fatto, secondo voi da un punto di vista programmatico quando ho aperto questi dispositivi ho aperto il mouse e ho letto dal mouse e ho aperto il 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 joystick e ho letto dal joystick io ho semplicemente aperto un file e ho incominciato a leggere i caratteri questo lo posso fare perché il joystick questo è un link simbolico però adesso vediamo dove sta ok adesso sto inseguendo il link simbolico perché il joystick è un device a caratteri analogalmente credo che anche il mice sia un device a caratteri quindi io posso leggere da un device a caratteri come posso leggere da un device a blocchi di fatto cut altro non fa che apre un file e poi fa printf a manetta leggendo da quel file ok ora a parte le schede video che sono un po' particolari non so come sono mappate però sono un pochino particolari credo le schede video non ce l'ho qua una scheda video se non c'è un net però a parte le schede video che sono le schede video scusate le schede di rete che sono dei device un po' particolari in linea di massima tutto il resto proprio ci leggete e ci scrivete in questo modo ora vi ripeto che più o meno tutto è un file vi ho già parlato del del dma in maniera estensiva prima oggi lo vedremo in azione quando leggo dalla telecamera vedremo quello perché mi devo comportare in un certo modo quando quando leggo dalla telecamera questa cosa qui non ve la commento perché ve l'ho già detto a voce un sacco di volte però ve la lascio nelle slide per futura memoria per capire come effettivamente avvengono i trasferimenti da parte di dei device come i dischi o le telecamere a mezzo dma e adesso parliamo del joystick come faccio ad aprire il joystick vediamo un po' allora voglio fare un programma che legge il joystick innanzitutto devo conoscere il device del joystick e l'ho identificato in realtà a forza di usarlo so che il mio joystick si trova su dev input js0 perché ci sono un sacco di alias che vengono fatti dev input js0 c'è quindi però se magari ho più joystick voglio sapere voglio poter leggere da uno piuttosto che dall'altro apro il file fa una piega no vedo se quel file effettivamente esiste anche questo è ordinare amministrazione e poi questo è interessante lo leggo a bot di struct js event cos'è un js event? è una struct vediamo un po' su magari ce la fa su ce la dovrebbe fare entro oggi ho piotti ok questo è js event ve la zoom c'è un tempo un valore un tipo e un numero un tempo è quando avete fatto un'operazione col joystick il valore è un sine 16 bit che probabilmente è l'inclinazione delle levette o quant'altro il tipo vi dice se è un evento di un bottone se è un axis oppure se è lo stato di inizializzazione e voi fondamentalmente leggete questo file guardate un po' leggete questo file dentro la struttura E che è di tipo js event quindi gli passate il puntatore ad E gli dite leggi questo file descriptor da questo file descriptor che è aperto prima scrivi le cose dentro la struttura js event quante ne devi leggere beh chiaramente dovrei leggere quanto è grosso un evento quindi tu leggi da questo file la botte de js event basta quindi quando lancio questo programma poi l'altra parte del programma è ogni quindi questo è un ciclo while ogni volta che leggo una cosa qui stamperò decodificherò fondamentalmente i valori che sono memorizzati nella struttura ok vediamo un po' come si fa poi ripeto che ho il solito problema del joystick che è poco reattivo ok meglio adesso sto muovendo un'asse del joystick vedo che è l'asse 1 adesso vado nell'altra direzione adesso mi muovo lungo l'altro asse vedrò un altro numero asse 0 infatti adesso muovo l'altra levetta 3 vi rivedo che ho problemi di batteria il vostro deve andare molto più fluido spingo bottone alzo bottone però lui non reagisce perché è incancrato ok abbiamo letto il joystick difficile e il joystick lo leggi come un file a botto ed estratto ogni volta che leggi una cosa tu leggi un valore bene ok altra quindi abbiamo visto come aprire un joystick credo che ci sia anche il joystick non a eventi se apri un altro dispositivo a questo joystick a questo device implementa l'interfaccia di un joystick a eventi che vuol dire che se tu non muovi nessuna levetta quello lì non ti manda nessun valore però c'è credo che ci sia anche la possibilità di bypass di aprire il joystick in modalità polling che è questo event joystick e io voglio aprire quell'altro vediamo se funziona meglio ripeto ripeto non so quanto quanto sia rotto il mio joystick perché è proprio malato ok no vabbè riprovo con joystick meno malato comunque questo è il joystick adesso vediamo l'altro caso il caso porta seriale ora la porta seriale anche questa è un ottimo file no per provare la porta seriale vorrei leggerci e quindi voglio per leggere la porta seriale mi serve qualcuno che ci scriva quindi adesso al volo vado sulla mia ottima arduino mi dispiace perché l'ho configurata da paura vado sulla mia ottima ce n'è un'altra vabbè pazienza che ci ho configurato un robot pazienza sbracherò tutto credo mi dispiace ma anche no source 04 avrinfo avrinfo ci abbiamo hello avr credo diciamo è l'ottimo comando hello avr mi pare che inizializzava la UART a 9600 che stampa hello con %d ok facciamo lo stampare in maniera un po' più allegra ho flashato la mia buona arduino a questo punto posso immaginare che la mia arduino mi stia spammando sulla seriale cose che cosa mi sta spammando la mia arduino settings 19002 si vai o per o per hello 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 ok ah questo si ricorda ancora quello che ho scritto un sacco di tempo fa vabbè insomma è consistente col programma però questo l'ho fatto da cutecom no non mi piace voglio farlo a manina notate una cosa che se io ho cutecom apro la seriale male quindi gli setto dei parametri tipo la 2006 open questo qui legge cose ma legge cose sbagliate perché è mal configurato quindi vorrei poter fare queste cose che cutecom fa su un file che è un descrittore della seriale da solo cioè senza bisogno di passare per cutecom ora se io una cosa interessante è che se io configuro la seriale meglio 19.2 come l'avevo configurata su su arduino poi chiudo cutecom in maniera bestiale e faccio gatto cat dev tty acm0 ecco mi sparo in bocca perché non succede niente perché forse me l'ha chiusa questo maledetto open poi io adesso ti tabacco così hello1 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 mi riesce a leggere qualcosa ma poca roba anche perché credo di stampare troppo poco su cioè a frequenza troppo bassa però sopravvivere ora la sostanza è che per gestire la seriale c'è una cosa la seriale tradizionalmente cos'è sui sistemi unix la seriale era quella porta attraverso cui venivano connessi i terminali esterni quindi tanti anni fa i terminali non erano c'erano proprio i terminali che c'era un computer solo che aveva una sola cpu e la sua memoria poca tipicamente e poi c'erano tante persone che usavano questa poca memoria e questa poca cpu e come la usavano? la usavano da dei videoterminali che erano dei non computer dei terminali stupidi che avevano un controller del display che era capace di stampare solo caratteri e che una tastiera che mandava solo caratteri erano connessi nominati un po' con una porta seriale hence quindi le porte seriali sono tradizionalmente associate a dei terminali ok infatti voi quando aprite un terminale anche sullo schermo voi tecnicamente state attaccando alla vostra macchina unix una bella uno di questi affari no? grossi con la sua tastiera e con il suo video quando aprite un x-therm o una shell sulla cosa noi diciamo apriamo una shell no tu apri un terminale dentro al terminale ci fai girare una shell ok? bene tutte queste configurazioni siccome sono tante le configurazioni della seriale la parità non la parità il numero di bit il non numero di bit ricordiamoci poi che sono sempre terminali quindi c'è la possibilità di anche muovere il cursore su questi terminali sono incapsulate dentro all'interfaccia che si chiama termios ora è una cosa nauseante andare a vedere i termios ma è una cosa comunque terminal control get add set add eccetera eccetera sono è un'interfaccia che basandosi su un file descritto di una porta seriale o di un terminale anche i terminali su cui voi scrivete no? sono dev pty dev pty questi sono i terminali che io ho adesso attivi sulla mia macchina se io premo una particolare combinazione di tasti per esempio ctrl alt f2 non lo faccio perché sennò vi chiude il video però io switcho su un terminale in modalità test e ce n'hai un certo numero sì questi sono i terminali virtuali ai quali ti connetti anche con i due externo o con altri ok e come li controlli questi dispositivi di tipo terminale con la struttura dati terma IOS ora in questo frammento di programma barely visible vi faccio vedere come si usano i termi IOS ma si usano come tutti gli altri affari di Linux fondamentalmente tu dirai dato questo descrittore mi dai tc get alt mi dai gli attributi di questo terminale e lui dentro a questa struttura dati ci scriverà dentro poi ci scrivi dei campi cf set o set o speed è come un setter quindi setta dentro la classe dentro la struct tty il campo speed non so credo che ci abbiano fatto delle funzioni perché delle volte quando setti una velocità sono più i punti che tu devi modificare allora hanno fatto una funzione che fa tutte queste operazioni insieme quello che fai in questo caso è configuri una seriale con questa roba qua come? parti dal descrittore della seriale che già devi avere aperto ti prendi i parametri dentro una struttura terma IOS tty che adesso vediamo meglio e poi si può zoomare immagino no aspetta zoom perché ce l'ho qua set interface attributes prende un file descriptor prende una velocità e prende una parità assume che il descriptor sia aperto la prima cosa che fa è dichiara una struttura dati terma IOS che sarà una struttura dati che contiene tutti i campi di quel tty in particolare di quella seriale poi dice dammi gli attributi scrivi gli attributi se non ci riesci male poi in funzione della velocità che tu ho dato qua gli assegnerai al campo speed una certa velocità ovviamente deve essere una delle velocità consentite dal tuo UART è per questo che su Linux ci sono delle macro cioè non esiste 192002 esiste B192002 che magari vuol dire qualcos'altro esiste B11520 che magari vuol dire qualcos'altro se c'è un Arduino io sono riuscito a pompare la mia fino a un megabit al secondo fino a questo numero qua ovviamente anche dall'altra parte dovete fare le stesse cose sono sicuro che riuscite a pomparla fino a questa velocità non sono sicuro che riusciate a mandare questa e questa dipende dalla qualità dell'implementazione comunque questi sono 20k al secondo ok dici cose poi setti la velocità di ingresso e di uscita dove sempre sulla struttura dati TTY sempre qua qua ti sei fatto dai dati e qua ci scrivi dentro roba CFmicro significa non c'è un terminale non basarti sul carriage return setta la parità setta il fatto che tu hai 8 bit di dati e un bit di stop sono tutti parametri magici ma insomma qua fai la get at e qua fai la set at tcs now significa applica questi cambiamenti immediatamente e questo qui farà il suo lavoro se vuoi settare la seriale in modalità bloccante perché può anche essere in modalità non bloccante come per esempio era gatto prima se vuoi settare la seriale in modalità bloccante dovrai presumibilmente riprenderti gli attributi che sono in terma IOS e settare per esempio il bli un certo insieme di campi bit fondamentalmente a a uno se vuoi che lui blocchi e poi glieli rimposti sapere quali campi settare e come settarli è veramente un'arte ok se volete realizzare per esempio un terminale che non aspetta un programma che non aspetta la lettura la pressione dell'invio per leggere un carattere è su terma IOS che dovete operare in questo modo potete per esempio realizzare credo di averlo fatto da qualche parte un programma che apre la cosa e per esempio può funzionare in modalità joystick senza bisogno di premere invio dopo aver spinto freccia su o freccia giù ok ah queste sono una comoda micro libreria che vi ho messo a disposizione apri la seriale setta l'interfaccia e set blocking e vi ho fatto anche un programma set serial test test serial no come l'ho chiamato serial example si indovinate come funzionerà FICO apre cioè apre un file name ad un bound rate interpreta i parametri apre apre il file descriptor setta il bot rate utilizzando quella funzione che ho frappato dall'altra parte che chiede i term IOS e setta quant'altro poi setta la seriale in modalità bloccante e poi si mette a leggere i caratteri ricevuti in questo caso io li stampo come 0.2x tanto che in modalità esadecimale perché prima l'avevo provato con Robo e quindi con l'arduino caricata con un diverso firmware e quindi me la tenevo però se la voglio stampare in modalità più grezza la posso stampare così per 100C no nessuno me lo lieta e adesso stamperò i caratteri che l'arduino mi produce devo ricordarmi che l'ho messa a 19.200 devo tornare al posto di prima che era mi device driver serial example 19.200 hello e adesso leggo dalla mia seriale quello che leggevo dal comunicatore carino detto cutecom ok se voglio scrivere la stessa cosa no potrei fare una write e in quel caso la arduino si leggerebbe i valori della seriale e abbiamo scoperto un'altra cosa adesso l'ultimo pezzo della lezione ma sono efficiente oggi l'ultimo pezzo che vediamo oggi è abbastanza interessante è come aprire la telecamera la telecamera è un dispositivo abbastanza doloroso nel senso che ha un alto throughput trasmette un sacco di dati non solo trasmette un sacco di dati ma tutti li devi anche leggere in tempo ok non vuoi in linea di massima perderti troppi frame ma linux intanto la telecamera esiste ed è un file partiamo dall'asso da poi è un device talmente particolare rispetto ad altri device perché per esempio ti permette di settare dei parametri come la risoluzione o il numero di bit per pixel vuoi averla in bianco e nero piuttosto che vuoi averla a colori un'immagine oppure vuoi averla compressa in jpeg oppure vuoi averla plane raw si dice l'immagine insomma ha tanti tante caratteristiche oppure qual è il frame rate di questa telecamera quindi ti offre tutta una serie di capacità da una parte e dall'altra parte di possibilità di settare dei parametri e dall'altra parte può essere interrogata riguardo per esempio al fatto che supporti o meno una determinata risoluzione quindi abbiamo una parte di configurazione della telecamera di un device e dall'altra parte abbiamo una parte di gathering di ottenere le immagini nel momento in cui vogliamo ottenere le immagini l'interfaccia video for linux vi permette di fare una cosa vi permette di dire al sistema operativo in quali buffer in quale posto di memoria lui andrà a scrivere l'immagine letta dalla telecamera quindi quando farai dopo aver aperto il file della telecamera dovrai configurarla e dirgli ok da questo momento in poi fammi streaming e fai streaming su questo buffer in realtà fa anche un'altra cosa fa una cosa in più non ti da tu ti permette questa interfaccia questo sottosistema non di dare un singolo buffer ma di dargliene un ring un anello quindi gli dai quattro posti dove scrivere immagini e lui scriverà a catenella in questo modo non è bloccante in questo modo magari mentre lui sta scrivendo un'immagine tu puoi accedere all'immagine che ha scritto prima ok per mappare questo buffer chiaramente dovrai usare un mmap quindi tutta una accedere alla telecamera vi comporta di usare delle chiamate a funzione speciali che funzionano solo sulla telecamera ma non ho mai detto che tutto è un file ho detto che tutto è un file ho detto anche che c'è video for linux ma ti dico anche che per comunicare con un device speciale di cui conosci l'entità tu puoi usare una system call magica che si chiama la IOCTL che sarà quella system call attraverso cui noi andremo a configurare la telecamera prima di usare le API di video for linux ok e vediamo un po' quello che succede quando si quindi ricapitoliamo vi dico un attimo quali sono i passi per aprire una una telecamera apri il file della telecamera e quello è facile lo sappiamo fare sarà una open la seconda cosa che devi fare è chiedi al device driver che è il file usando la IOCTL di restituirti di riempirti una struttura dati che contiene le proprietà supportate da quella telecamera per esempio se è in grado di fare streaming se è in grado invece di fare una telecamera one shot o quant'altro quindi apri il device e vedi un po' che roba è poi se supporta le funzionalità che tu vuoi che supporti devi preparare i buffer e il DMA per il trasferimento quindi li allochi allochi della memoria su cui poi dopo verrà scritta la roba in realtà il DMA viene dentro al kernel ma poi il kernel te li copia nel tuo spazio o forse anche no richiedi a quel punto richiedi al device al device driver di darti un certo numero di buffer che sono quelli che poi verranno copiati nel posto e poi incomincia a catturare incomincia la cattura la cattura ogni volta scriverai su uno dei buffer del tuo ring buffer che gli hai dato e ti dirà ti manderà ti sbloccherà una select ti sbloccherà una chiamata che tu hai fatto su un file descriptor per vedere quando è cambiato di stato alla fine della fiera dialoghi tutto e chiudi il dispositivo vediamo un po' quello che succede e quello che fa il nostro programma che è qua capture camera allora il mio main è questo qua si usa così apri la tele apri un device e dimmi qual è il numero di frame ai quali lo vuoi lo vuoi far girare quindi sarà capture camera dev video 0 video 1 e poi 100 per esempio lui ti leggerà 100 immagini ogni volta salvandotele su disco in che formato in un formato pgm però formato pgm è molto semplice credo che ce l'ho qua save pgm eccolo qua il formato pgm è banale perché è composto da un header che è p5 poi vai a capo poi ci scrivi il numero di righe il numero di colonne e poi subito dopo ci devi mettere un numero di byte un byte a carattere che è la tua immagine per righe e quella roba lì la scrivi proprio in boom a blocco ok benissimo e questo è quello che fa il mio save pgm ora quello che fa questo programma è la seguente cosa apre la camera chiamando la funzione camera open che vediamo dopo chiama una funzione che chiama che dice camera init che presumibilmente si occuperà di inizializzare la camera anche questa la vediamo un attimo al piano di sopra poi dice camera incomincia a partire e poi questo è completamente inutile e poi per un certo numero di volte se è arrivato un nuovo frame camera frame questa funzione qui sbloccherà quando è arrivato un nuovo frame e presumibilmente restituirà uno salva l'immagine ok dove la prende questa immagine c'è la funzione save pgm che presumibilmente da un certo tipo camera camera c'avrà un no qua c'avrà un campo che si chiama head testa che avrà un byte di inizio che è il buffer il primo carattere dell'immagine da salvare adesso dici ma ci fai vedere questa camera? e si che la faccio vedere allora prima di far vedere la camera però vi faccio vedere un'altra cosa vi faccio vedere un buffer cos'è un buffer? un buffer è una struttura dati che contiene un array di caratteri e una lunghezza e va bene e fino a qua non ci piace poi vi faccio vedere un'altra cosa vi faccio vedere la camera fico la camera è una struttura dati che contiene un file descriptor indovinate un po' cos'è il file descriptor è il file descriptor del device che abbiamo aperto contiene un'altezza e una larghezza dell'immagine che mi servono poi contiene un buffer t un buffer quindi una struttura materiale di questi che sarà la testa head vuol dire il buffer l'ultimo buffer che video for linux mi ha scritto quindi buffer quello bono e poi contiene un array di buffers tanti che sono il numero di buffer che io darò a video for linux per scriverci dentro ok quindi quando io apro la camera camera open sostanzialmente scriverà manipolerà questa struttura e interagirà con il file system camera open che cosa fa prende il device driver quindi dev video zero poi mi fa l'apertura del device mi mette dentro al file descriptor di questa struttura dati il file che lui ha aperto questo è la ritornerà un oggetto di tipo camera t mi imposta l'ampiezza la larghezza mi imposta il numero di buffer che io eventualmente ci voglio mettere per esempio zero mi imposta la lunghezza dei buffer per esempio zero quindi a zero tutte le strutture interne tranne la larghezza e l'altezza e mi ritorna un oggetto camera questo è molto semplice penso è un costruttore dell'oggetto camera che mi apre solamente il file descriptore descriptore imposta la larghezza e l'altezza siamo a posto sappiamo aprire la camera con camera open ma adesso dobbiamo ancora fare la richiesta quindi scoprire quali sono le capacità della nostra camera per esempio se supporta una certa risoluzione o se supporta il cropping che vuol dire pur acquisendo un'immagine che ne so 1024 per 7,68 restituisci solamente il quadratino centrale 6,40 e 4,80 questo vuol dire il cropping ok ah qui c'è una funzione che ho chiamato xioctl in realtà questa funzione xioctl è qui altro non fa che invocare la iocitl questa è la vera syscall che io sto chiamando quindi xioctl tenta di chiamare 100 volte la iocitl fino a che non me va bene perché delle volte la camera ci mette un po' a reagire allora io glielo chiedo a manetta ok quindi xioctl è come se fosse iocitl come si usa la iocitl gli dici il file descriptor gli dici la richiesta ricordatevi che il significato della iocitl è qui dentro gli passo un intero che dice che cosa devo fare e poi gli passo un void star che conterà gli argomenti per quello che deve fare su quel file descriptor quella particolare iocitl ok quindi xioctl è come iocitl solamente che la camera era lenta a reagire all'iocitl allora abbiamo fatto sto giro bene camera init quindi siamo arrivati al caso di camera open abbiamo aperto la camera e lì c'è il descriptore bene la prima cosa che dobbiamo fare è scoprire quali sono le 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 capability della nostra camera per fare questo dobbiamo chiamare una iocitl passando come argomento query cap mi dici quindi questo è un intero che dice iocitl che dato questo device video lui deve vedere quali sono le capacità le capabilities le possibilità che quel device soffre e dove ti mette il risultato te lo metterà dentro la struttura dati cap che sta qua che gli passi come puntatore poi vedi se fa il tuo caso quindi se questo oggetto supporta il video capture e se supporta lo streaming se nessuna di queste due è vera allora dici no non posso fa sto lavoro ok e ritorni quindi fai un test sui parametri della struttura dati video for lino capabilities poi magari un'altra cosa che è abbastanza inutile per esempio se puoi vedere se la camera supporta il cropping puoi fare questo lavoro qua puoi anche sostanzialmente fregarti io direi che vabbè comunque questo serve per scoprire le capability un'altra cosa che tu puoi scoprire dalla tua camera è se supporta un certo formato un formato consta in un formato di pixel cioè un pixel può essere RGB toni di grigio UV sono tanti formati di impacchettare l'informazione nel pixel allora tu vuoi vedere se la tua telecamera riesce a supportare la particolare risoluzione che richiedi io ovviamente in questo programma ho scelto una risoluzione che tutte le camere supportano credo che sia 640x480 però in linea di massima tu devi vedere se la tua camera supporta quella risoluzione supporta quel formato di pixel e quant'altro dici come fai a vedere queste cose qua adesso vi faccio vedere un programma uvcobiever questo no ho paura di rompere la live se faccio questa cosa no e niente non non mi ho paura di rompere la live se faccio questo lavoro ragazzi video controls secondo solo chiudi tu chi sei properties ah lui è usb2 quindi è l'altra che è buona e questo ho detto ok oh ma lo fa partire niente duro te comprendo c'è un'altra camera aspetta un attimo vabbè se no se no internet Niente, me lo sei incagliato. Alle brutte devo staccare un attimo la mia bella faccia dal video, ce ne faremo una ragione. Volevo farvi vedere le capabilities con una GUI. Se avete un programma che si chiama GUVCVU, GUVCVEV, questo, GUVCVEV, ecco, che cercavo di lanciare prima. Niente, non gliela fa installare, non gliela fa fa la partita. Noi video di ViceFound. Mi dici qual è? Questa. Ok. No. Ok. Ho la bua, la camera, me ne farò una ragione. Dicevo, sto nell'inizializzazione della camera. Fai la IOCTL, vedi se supporta lo streaming che tu vuoi. Vedi se supporta il formato video a cui tu sei interessato. Quindi dovrai creare una struttura format, dovrai copiarci dentro i dati, e poi fai un'altra IOCTL per vedere se la situazione va bene, quindi se la camera supporta quelle cose lì. E a questo punto, se tutto quanto è andato a posto, allora puoi dire al device driver di Linux, ok, di allocarti un certo numero di buffer. Ok? E come fai? Crei una struttura dati, richiedi i buffer, gli dici che vuoi avere quattro buffer, gli dici che i buffer devono essere di tipo videocapture, e gli dici che ci farai un M-map. Questi sono tutti i valori che tu vai a settare dentro questa struttura dati qua. E poi, ancora una volta, fai una IOCTL sul file descriptor, dicendogli che vuoi un determinato numero di buffer. Quando fai questo lavoro, allora potrai allocare, a questo punto è il tuo mestiere, potrai allocare dentro al... Allocherai dentro all'array delle camere, quindi questo qui è il vettore di buffer delle camere, ci allocherai n volte, in questo caso 4, 4 volte la dimensione di un buffer. E a questo punto tu hai proceduto all'allocare i buffer sulla tua camera, quindi questo qui li alloca sul tuo heap, e questo qui li allocherà fondamentalmente nello spazio del kernel. Ok? Bene, cioè dice, caro kernel, la mia camera scriverà qui, mentre questi sono i buffer tuoi privati. L'ultimo passo, a questo punto tu potresti far partire l'acquisizione, però il kernel scrive, il driver scrive sui buffer che lui ha in memoria, e tu devi copiarti fondamentalmente questi buffer nel tuo spazio, diciamo, personale. Allora, che cos'è che poi devi fare a questo punto? Devi fare 4M map. Come fai a fare queste 4M map? Ricordati che qui c'avevi la struttura dati, qui hai fatto la richiesta, e dovrai ottenere dalla richiesta i buffer, dal kernel, i buffer che ti sei allocato. Quindi per 4 volte chiederai tramite la IOT CTL, al file descriptor della camera, un certo buffer. Quale buffer vai chiedendogli? Gli vai a chiedere l'iesimo buffer, dove l'iesimo buffer va da 0 a 4. Quindi per 4 volte fai questa IOT CTL, che se va a buon fine ti riempirà questa struttura dati che tu chiamerai buffer. A questo punto hai il buffer fisico, hai la zona di memoria che il kernel ti va a riempire, e a questo punto vai a fare tutti i tuoi inutili controlli, vedi se la lunghezza è sufficiente. L'ultima cosa che vai a fare, vai a fare la MM map, e dove fai la MM map dell'iesimo buffer, quindi nella posizione dell'iesimo buffer della tua struttura dati, camera, tu vai a scrivere il risultato della MM map, che andando a guardare sulla risposta del buffer, te farà sta magia. Perché l'ho fatta così e come l'ho fatta, non me lo ricordo, però la logica è quella che dentro a questa struttura dati, lui ci va a scrivere il risultato della locazione del buffer. Poi con il risultato della locazione del buffer, tu devi fare la MM map dell'iesimo buffer della tua struttura dati camera, che è questa qua. Questo è quello che tecnicamente tu vai facendo. Ora, quando hai fatto tutto questo lavoro, sei pronto a far partire l'acquisizione. E come fai a far partire l'acquisizione? Ancora una volta, abbiamo Camera Start, che fai la IOC TL? È un po' un bordello, perché devi fare la IOC TL un milione di volte. E perché la devi fare un milione di volte? Perché tutte queste cose qua, di imposta il buffer, setta il buffer, setta la risoluzione, non sono delle cose standard, di default, di un device driver. E quindi l'inventore, il supporto della camera, è implementato attraverso questa maniera di tunneling, un po' brutta, che c'è qua. Brutta fino a un certo punto, perché tutto sommato è come se fosse una system core. L'ultima cosa che devi fare, se non sbaglio, è dire Oh, questo è abbastanza inutile. L'ultima cosa che tu devi fare, devi dire Stream on. Vai, cara Camera, vai. Ok? E lui comincerà a fare streaming. Per fare, per stoppare la camera, dovrai fare la stessa cosa. Fai una IOC TL, dove dici Stream off. E lui interromperà il flusso della camera. Quando abbatti la camera, dovrai fare l'unmap e dovrai fare tutte le operazioni, l'undu di tutte le operazioni che hai fatto prima. Ora, io non mi aspetto che voi facciate funzionare la camera. Questo qua è un esempio per farvi vedere come interagire con un device che ha un pochino tutti i pezzi, perché la camera ha il DMA, ha la select sui buffer, ha un sacco di roba. Ora, c'è un'altra funzione che a me mi interessava, quella che mi interessava più di tutte, che è quella che dice Camera Frame. Ecco qua. Questa è quella che mi interessava. Come faccio a sapere quando una camera mi ha prenotato, mi ha scritto un buffer? Lo faccio così. Faccio una select sul descrittore della camera. Questa select mi sbloccherà o a timeout, oppure mi sbloccherà nel momento in cui il mio sistema ha scritto sulla camera. No, io prima non sono riuscito a far andare la camera con i tool di default di Linux. Vediamo se riesco a farla andare con questo affare qua. Quindi cosa mi aspetto che succeda? Vediamo un po'. Questo affare qua che cosa fa? Inizializza la camera. No, spera. Camera open? Sì. Crea la camera. La inizializza e quindi fa tutto quel bordello che abbiamo visto prima sul query, sul setting della risoluzione e quant'altro. Ma non alloca i buffer. Camera start fa l'allocazione dei buffer e farà la mia M-map. A questo punto io sono pronto ad acquisire. La camera tecnicamente già sta andando per conto suo. Io per mettermi in attesa sincrona di un frame dirò mi dai il frame, un certo, cioè camera frame. So che questa camera frame farà una select sul descrittore della camera e mi sbloccherà quando l'oggetto è stato scritto. Quando l'oggetto è stato scritto io posso utilizzare la funzione save pgm che andrà dentro la mia camera questa qua e mi leggerà dentro a una certa struttura dati testa che è di tipo buffer che io so quante righe e quante colonne c'ha mi leggerà l'informazione e poi me la scriverà sul disco. Ora, c'è una sola cosa che mi turba che è dove aggiorni head vediamo un po' dove aggiorno head lo aggiorno dentro la magica funzione camera catch perché quando vado a fare quando catturo l'immagine dalla telecamera dentro a questa struttura dati qui a cui io accedo attraverso la yoctl cioè in cui la yoctl scrive io ci avrò una cosa importante che mi dice l'indice del buffer che è stato scritto dalla funzione camera capture perché il kernel cattura io gli do un ring buffer lui mi dà l'ultimo buffer su cui ha scritto e come fa a darmelo mi ci scrive qua dentro lui mi aggiorna il numero di buffer in cui lui ha scritto in questo modo io posso copiare il buffer iesimo buffer di tipo index nella locazione della testa e poi dopo e poi dopo diciamo la lavoro quindi camera capture che cosa fa? fa una yoctl sulla camera dicendogli parti e incomincia a fare questa acquisizione in modalità memory mapped lui questa acquisizione qui farà una scrittura su un buffer su un oggetto di tipo buff che è di tipo video for linux buffer che ha un sacco di campi uno di questi campi mi dice qual è degli n buffer che io gli ho configurato prima quello dove lui ha scritto nel momento in cui so quale degli n buffer su cui lui ha scritto io prendo e rozamente me lo copio no? nella nella in un campo della camera che è che è la 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 si me lo copio nel campo start mi copio tutti i byte nel campo start nel campo head della mia camera in questo modo questo maledetto campo head che sta qua io ce copio tutta l'immagine la copio qua dentro al buffer puntato dalla testa è quello che vado a fare qua una persona più saggia potrebbe addirittura ritornare il puntatore al buffer e basta senza fare la copia comunque ogni volta che lo guardo mi vengono in mente cose meglio da fare bene e abbiamo finito comunque se volete guardare come si apre la camera il consiglio che vi do è di prendere un programma già fatto e modificarlo perché è una cosa abbastanza pallosa ora faccio vedere questa acquisizione donna capature camera video video 0 100 un po' video 1 no e vado a detto che ho le camere rotte allora ragazzi io pauso metto un attimo la telecamera questa qua la chiudo così ce l'ho buona però lui mi dice che è busy ma che cosa è che sta usando la mia camera non lo so no ce l'ho un'altra camera devo cercare una webcam non lo so Grazie. Forse questo va. Un po' forse questo va. Allora, ragazzi, non mi vedrete più fino a che non ho disabilitato la mia camera, quindi che faccio? Non mi vedi? E se vede cancello? La camera l'ho staccata, vediamo un po' chi ti stava cedendo. Morirà. Bene. Ok, adesso abbiamo la camera. Un po'. Ok. Questa qui è la mia camera, che non so che dev video è. Lo scoprirò. Sì, però se tu mi dici qual è, se è dev video 0 o dev video 1, io sono contento. Perché adesso sto usando la stessa camera che... che device è questa camera? video 0. Video 0. No. Video 1. No. Video 2. No. No. Video 3. No. 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 però me l'ha aperto device research busy vuol dire che c'è un altro programma che me la sta usando ma che cos'è che me la sta usando questa camera? goob diev ma che ti abbatto ma non è che c'è un altro goobc più da un'altra parte goobc più cancel ah però io vado con quell'altra però se tu me la facessi settare test alt si e questa è partita quindi adesso se io gli chiudo ti chiudo in maniera civile benissimo no ragazzi non so che c'ho con le camere oggi mi si sono rotte tutte e due forse dovrei fare un reboot però non volete voi fare una prova compilando il post perché tanto voi non state usando la telecamera voi potete provare a compilare il vostro programma ce la vedete probabilmente con una sola telecamere che è debito zero che era questa e sta bene pure sta camera può essere come se sta a squagliare la macchina no e provate voi a lanciare questo comando capture camera dev video zero che ne so 100 provate a lanciarla iscrivetemi sulla chat quello che vi succede ok io in questo momento ho tutti i dispositivi a pezzi quindi credo che ho sfondato il mio stack usb e credo che un reboot sia necessario voi però fatelo al volo tanto ci vuole tanto andate dentro la directory per i 14 devices e fatelo attendo ansioso questo è il comando che dovete fare e adesso addirittura posso posso addirittura pensare di riesumarmi sul video video capture device ehi quanto sei grosso e poi ti croppo ragazzi avete capito quello che vi ho detto avete provato a lanciare questo comando mi dite se vi fa qualcosa sul vostro computer eventualmente dovete sudo add group video add group ah ero già membro di video eventualmente dovete appartenere al gruppo video perché può essere che non abbiate i permessi per accedere al telecamera ah funziona perfetto quindi è la mia macchina che sta sta fritta sta cotta ehm sì ehm ottimo quindi ragazzi la prossima lezione è l'ultima ehm no la prossima lezione ci sono gli esercizi poi c'è l'ultima lezione in cui vi faccio i signal e poi discutiamo dei progetti facciamo assegnazione e quant'altro ok ehm mo devo ancora aggiustare i settaggi del sto del sto OBS è venerdì va a durare un buon fine settimana anche se il tempo in questo momento non è dei migliori e magari visto che abbiamo saltato un po' di question session ehm sì lo so che funziona sì ehm magari abbiamo saltato un po' di question session ehm li facciamo ehm la prossima volta dove facciamo anche un po' di esercizi sul file system e quant'altro ok e poi facciamo i signal e poi ci prepariamo all'esame così prendere tutti un voto alto ehm José dice funziona in bianco e nero lo so perché sono un patito del bianco e nero se vuoi farla funzionare a colori basta che cambi il pixel format il problema è che il formato PNG che è molto semplice supporta solo il bianco e nero PGM supporta solo il bianco e nero se volevo se la faccio in P PBM credo avrei potuto pure fartela a colori però l'ho fatta a me che nero cambia i pixel format cambia tutte le cose del caso e via discorre ok ragazzi buon fine settimana ciao io chiudo la live e aggiusto i settaggi testo OBS e faccio un reboot perché mi sa che gli serve sto parlo con più ciao ciao